... ... ... ... ... ... ... ... Cos'hai detto? ... ... Salute! ... ... Fai il gippone? Allora, intanto il gippone era di d'accordo, perché me l'aveva prestato solo per due minuti. Ah no! Io voglio, perché vai? Io ci voglio, piccione! Perché faccio il piccione? Che carino! Perché a quest'ora di solito passa la signora Bisleri che lancia le briciole ai piccioni, io le prendo al volo con la lingua e minuto con la lingua delle briciole dei piccioni. Mangia le briciole? Certo, sì, beh... Mangi le briciole? Sì, ho capito, mangi le briciole, stavolta l'avevo capito, no? Mangio anche i semini, ogni tanto la Bisleri butta i semini, briciole, proteine, carboidrati, vieta completa. Che cosa bevo? Beh, lì aspetto l'19 che parta l'irrigazione delle aiuole e lì mi diverto, cido dentro, cido dentro. Che ti senta? Fa tristezza. Che mi senti ieri? Che ti senti? Formigoni. No, ma che ti senti? Sono Formigoni, piacerissimo, Roberto. E tu chi sei il bel bambino? L'arri, Frasafone, Pedracis. Sei di Pedracis? Ah, bello, Balbadia, vicino a Corvara. No, sei il figlio di Fedes e la Ferragni? Ma davvero? Ma davvero, sei il figlio di cosa ci fai qua tutto solo il bambino di Fedes? Dov'è la mamma? Dove ce l'hai la tua mamma? No. La giocava alla diretta Instagram. Fa la diretta su Instagram. 12.000 euro a posto, se ho capito bene, mamma mia. Sono risponso, certo risponso. Quindi anche il passeggino sarà di macca, suppongo. Sì, quello. E di Fandi? Quella, quella, fai... Jimmy Cuccio? Jimmy Cuccio, sì. E la pettina di Becciace. Hai capito? Stiamo parlando di un bambino da 100.000 euro. No? No? 100.000? No, di più. Di più? Quindi se io ti rapissi in un momento di follia... Cosa fai? Perché piangi? Stiamo scherzando? Formigoni rapisce i bambini. Si scherzava. Si scherzava. Si scherzava. Mi hai messo tanto a paio. Ma no, anche io. Lo sai che una volta anch'io, caro leoni e zero opulento. Ristoranti, yacht, vacanze, caraimi, capotti di Richmond. Di Richmond. E cosa hai detto? E poi come mai ti sei ridotto così? E come mai mi son ridotto così? Perché mi han sequestrato tutti i beni, mi han dato sei anni a me. In primo grado. In primo grado, sì. Perché il secondo? Sono sette e mezzo. E basta. Sette anni e mezzo? E basta. E basta. Uella, abbiamo qui il figlio di Travaglio. Perché mi son sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Mi han dato sei anni. Sei. E poi? E poi ho fatto un memoriale scritto di mio pugno e mi hanno aggiunto un altro anno e mezzo. Hai capito sti bastardi? Più parlo? Più parlo? Più parlo? Più parlo? Più mi aumentano gli anni? Più mi aumentano gli anni. Un po' il concetto è questo. È questo. Cosa c'è? Non piangere. Vedrai che poi mi daranno i domiciliari. Tutto si aggiusterà. Ho ancora... Io piago perché ho fame. Hai fame? Non dirlo a me. Non è ancora arrivata la signora Bisleri con le bricioline. Anche se qui... Anche se qui aspetta che cosa c'è qua a Leonez. C'è una briciolina. È una briciolina. Con croccante. Però non è una briciolina. Il tipo. Giovanni mi prende... Mi prende la latte. Mi prende la latte. Hai latte te? Anche. Perché... Ma dov'è? Con i biscottini. Con i biscottini. Ma è un classico. È un latte con i biscottini. È un classico. Classico latte e biscottini. Classico. Classico. Ma dov'è? Dov'è che lo tieni questo latte con i biscottini? Qui sotto nella tacchina. Qui sotto nella tacchina. Però prendi te e vedrai la tacchina. Eccolo. Ce l'hai con i biscottini. Preso. Eccolo qua. Ma che bello il latte. Aspetta. Controlliamo prima se brucia. Per sicurezza. Non vorrei mai che... Controlliamo la brucia perché mi brucia sempre. Ecco, ti bruci sempre. Quindi adesso lo proviamo. Brucia? Oh, brucia! Caspiterina che brucia. Qua tutto dolore. Aspettiamo. Aspettiamo perché... Adesso brucia. ... Da morire. Eh, mettete la pleca. Adesso brucia. Oh, 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 oh!